Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buongiorno Angler della rubrica del carpista Alzatina presto presto, stiamo andando in un lago che tanti di voi possono conoscere, tanti altri no Lago Borghese, lago Fixas, un pianto sportivo con lo raggio interno, si fanno tantissime gare Fever, carfishing, pesca al corpo, quindi carpe di piccola, media e anche grande taglia Quindi nulla, stamattina mi trovo con il socio che si fa due ore di strada Una persona spisita, Ivan Niente, sono quasi arrivato Ragazzi, vi terrò aggiornati Speriamo in qualche cattura Durante il corso della giornata faremo qualche diretta, qualche video E dai, speriamo bene Oh, noi ci si mette tutta Ciao a tutti ragazzi, a più tardi Speriamo in qualche cattura 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 Altro periodo, altra temperatura Altro momento Sono sicuro che i pesci non mancheranno Speriamo in qualche cattura